In amore l'unica dimensione che fa la differenza è quella del cuore Allora, per ridimensionare i luoghi comuni è meglio riderci su Salve, cercavo Jessica Jessica, eccolo Jessica Rizzo, un'attrice con una gloriosa carriera alle spalle 250 film e 13 premi Oscar Puoi darmi un giudizio tecnico sugli uomini neri? Guarda, gli uomini neri ho avuto diverse esperienze nei miei film Ho fatto anche un'orgia con più uomini neri Sì, 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 sì Quanto? Guarda, con cinque Con cinque tutti insieme Mi sono fatta mancare un puntino i puntini Nella tua esperienza quali sono le cose che noti nella sessualità e nell'erotismo? Differenze tra uomini neri e uomini bianchi? Ma io non noto differenze Nel senso che ci sono uomini bianchi ben dotati Come mini dotati e così uomini neri ben dotati e anche mini dotati